È quasi passata una settimana dalla notizia della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello e continuano a spuntare indiscrezioni e dettagli più o meno rivelati dai diretti interiore. Il campione di calcio e l'influencer sembravano vivere una favola, ma così non era da almeno un anno e mezzo ha rivelato la loro governazione. Un dettaglio che i due avevano messo parlando invece di alcuni mesi. Avrebbe influito sulla crisi anche la depressione post-parto di Alice, che l'anno scorso ha messo al mondo il loro quarto figlio, la piccola Bella. L'amore non sarebbe finito ma nessuno dei due sarebbe intenzionato a ritornare sui suoi passi. In merito al periodo difficile dopo il parto Campello avrebbe rivelato alla giornalista Ci amiamo infinitamente, l'amore non finisce da un giorno all'altro. Alvaro uccidere. La giornalista ha poi aggiunto, lui non stava con nessuna ragazza, era de sono innamorati e continuano a. Un altro dettaglio non indifferente avrebbe influito sulla decisione di separarsi, Campello non voleva, e non vuole, trasferirsi a Milano. L'influencer preferisce rimanere a Madrid e continuare a crescere i suoi figli lì. Questo Morata non lo avrebbe accettato, l'attaccante è passato al Milan per questa stagione calcistica e per questo si è dovuto trasferire in Italia. Alice, questa sarebbe la spiegazione, vorrebbe tutelare i figli e per questo non ha voluto seguire l'ormai ex compagno. Anca Alvaro ha commentato la questione alla trasmissione Decorason di TV e, Alice voleva restare in Spagna e non voleva una non le sono mai stato infedelle, è la donna più importante della mia vita. Un post condiviso da Alice Campello Chiocciola